Quando Boo Ridley si alzò strisciando i piedi in terra, la luce delle finestre del giorno gli brillò sulla fronte. Ogni movimento che faceva era incerto, come se egli non fosse sicuro che le sue mani e i suoi piedi potevano stabilire un contatto solido con le cose che toccava. Tossì della sua terribile tosse a rantolo e rimase così scosso che dovette sedersi di nuovo. La sua mano cercò il taschino sul fianco e tirò fuori un fazzoletto. Tossì di nuovo e poi si asciugò la fronte. Ero così abituata alla sua assenza che mi parve incredibile che tutto quel tempo fosse stato seduto accanto a me, presente. Non aveva emesso un suono. Di nuovo egli si alzò in piedi, si volse a me e fece un segno con la testa indicando la porta d'ingresso. Le farebbe piacere salutare Gem? Non è vero, signor Arthur? Venga. Lo condussi attraverso l'atrio. La zia Alexandra sedeva accanto al letto di Gem. Vieni dentro, Arthur, disse. Dormi ancora? Il dottore gli ha dato un sedativo potente. Jean-Louis, tuo padre nel soggiorno? Sì signora, credo di sì. Devo andare a dirgli una cosa. Il dottor Reynolds mi ha lasciato del... Le parole si persero lontano. Boo si era andato a mettere in un angolo della camera e stava con il mento alzato, strizzando gli occhi per vedere Jim da lontano. Lo presi per mano. E la sua mano era incredibilmente calda, nonostante la sua bianchezza. Fece un po' di forza ed egli si lasciò condurre al letto di Gem. Il dottor Reynolds aveva costruito una specie di baldacchino sopra il braccio di Gem perché la coperta non gli desse fastidio, immagino. E Boo si spinse avanti, guardando sopra quella impalcatura. Aveva sul volto un'espressione di timida curiosità, come se non avesse mai visto un ragazzo. Aveva la bocca semiaperta e guardò Gem da capo a piedi. La sua mano si alzò, ma poi la lasciò ricadere lungo il fianco. «Lo può accarezzare, signor Arthur. Tanto dorme. Se fosse sveglio, non vorrebbe. Perché? Perché è grande?» Sentì la mia voce dargli tutte queste spiegazioni. «Faccia pure.» La mano di Boo rimase sospesa sopra la testa di Gem. «Faccia pure, signore. Dorme profondamente.» La mano di Boo scese leggera sui capelli di Gem. Cominciavo a imparare il suo linguaggio muto. La sua mano si strinza alla mia ed egli mi fece capire che voleva andare. Lo condusse al portico davanti, dove i suoi passi inquieti si fermarono. Mi teneva ancora per mano e non dava segno di lasciarmi andare. «Mi vuoi accompagnare a casa?» Lo bisbigliò quasi, con la voce di un bambino che ha paura del buio. Mise il piede sul primo scalino e mi fermai. Mi avrei fatto attraversare la nostra casa, ma non avrei mai potuto accompagnarlo fino a casa sua. «Signor Arthur, pieghi il suo braccio. Qui, così. Ecco, così, signore.» Infilai la mano nel cavo del braccio. Egli dovette curvarsi un pochino per poter camminare con me. Ma se mi Stephanie Crawford fosse stata a guardare dalla finestra del piano di sopra, avrebbe visto Arthur Ridley che mi scortava sul marciapiede come avrebbe fatto qualsiasi gentiluomo. Giungemo all'ampione, all'angolo. Quante volte, Dill e Dio, eravamo stati fermi là, abbracciando il grosso palo, osservando, aspettando, sperando. Quante volte, Jim e Dio, avevamo fatto quel percorso. Entrai nel giardino di Ridley, per la seconda volta in vita mia. Boo e io salimmo gli scalini che conducevano al portico. Le sue dita trovarono la maniglia della porta. Egli lasciò andare dolcemente la mia mano. Aprì la porta, entrò, e la richiuse. Non lo vidi mai più. I vicini portano dei cibi quando qualcuno muore. Fiori quando siamo malati. E piccoli doni nelle occasioni intermedie. Boo era nostro vicino. Ci aveva regalato due bambole di sapone, un orologio rotto con la catena, un paio di monetine a portafortuna e le nostre vite. Ma i vicini ricambiano i doni. Noi, invece, non avevamo mai rimesso nel tronco dell'albero quel che vi avevamo preso. Non gli avevamo regalato niente. E questo mi rendeva triste. Mi volsi per andare a casa. I lampioni ammiccavano lungo la strada fino ad arrivare in città. Non avevo mai visto il nostro vicinato da quell'angolo. Ecco la casa di Miss Moody, la casa di Miss Stephanie, ecco la nostra. Vedevo il dondolo del portico. La casa di Miss Raquel, oltre la nostra, ben visibile. Vedevo persino la casa della signora Dubose. Mi guardai indietro. A sinistra della porta marrone c'era un'alta finestra con le persiane chiuse. Camminai fino alla finestra. Mi fermai di fronte ad essa e mi girai. Di giorno, pensai, si può vedere fino all'angolo dell'ufficio postale. Di giorno. Nella mia mente la notte svanì. Era giorno e tutti i vicini erano indaffarati. Miss Stephanie Crawford attraversava la strada per raccontare le ultime notizie a Miss Raquel. Miss Moody si chinava sulle sue azzalee. Era estate e due bambini correvano sul marciapiede incontro ad un uomo che si avvicinava in distanza. L'uomo agitava la mano e i bambini facevano a chi arrivasse prima da lui. Era ancora estate e i bambini si avvicinavano di più alla casa. Un ragazzo camminava a fatica sul marciapiede trascinandosi dietro una canna da pesca. Un uomo stava ad aspettare con le mani sui fianchi. Estate e i bambini di quell'uomo giocavano in giardino con il loro amico recitando uno strano piccolo dramma di loro invenzione. Era autunno e i bambini di quell'uomo facevano la lotta sul marciapiede di fronte alla casa della signora Dubois. Il ragazzo aiutava la sorellina a rimettersi in piedi e andavano a casa. Autunno e i bambini di quell'uomo trottavano avanti e indietro girando l'angolo con le pene e i trionfi della giornata dipinti sul volto. Si fermavano davanti a un albero di quercia incantati, incuriositi e apprensivi. Inverno e i bambini di quell'uomo rabbrividivano accanto al cancello del giardino, profilati contro una casa che ardeva. Inverno e un uomo usciva per la strada, lasciava cadere gli occhiali e uccideva un cane. Estate e guardava i suoi bambini che avevano male al cuore per lui. Di nuovo autunno e i bambini di Bu avevano bisogno di lui. Atticus aveva ragione. Una volta aveva detto che non si conosce realmente un uomo se non ci si mette nei suoi panni e non ci si va a spasso. Bastava perfino star fermi qualche attimo sul portico dei Ridley. I lampioni mi apparivano indistinti nella pioggia sottile che si era messa a cadere. Nell'andare a casa mi sentivo molto vecchia. Poi mi guardai la punta del naso e vidi delle perline confuse ma guardare con gli occhi storti mi faceva girare la testa e smisi. Nell'andare a casa pensai a quel che avrei avuto da raccontare a Gem l'indomani. Sarebbe stato così furioso di aver perso quegli avvenimenti che non mi avrebbe parlato per giorni interi. Nell'andare a casa pensai che Gem e io saremmo cresciuti ma che non c'erano rimaste molte cose da imparare salvo forse l'algebra. Corsi su per gli scalini e entrai in casa. Zia Alexandra era andata a letto e la camera di Atticus era buia. Volevo vedere se per caso Gem non aveva ripreso i sensi. Atticus era in camera di Gem seduto accanto al letto. Leggeva un libro. Gem non si è svegliato mai? Dorme pacificamente. Vedrai che non si sveglierà fino a domani mattina. Davvero? E tu starei alzato tutta la notte? Un'oretta ancora. Va a letto, scout. Hai avuto una giornata molto lunga. Vorrei stare un pochino con te. Come vuoi, disse Atticus. Doveva essere mezzanotte passata e la sua amabile acquiescenza mi stupì. Però egli era più furbo di me. Nell'istante in cui mi sedetti cominciò a venirmi sonno. Che cosa leggi? Gli chiesi. Atticus voltò il volume. È un libro di Gem. Il fantasma grigio. Mi sentì sveglia di colpo. Com'è che l'hai preso? Tesoro, non lo so. Ne ho preso uno a caso. Uno dei pochi che non avessi letto. Aggiunse apposta. Leggene un po' ad alta voce, Atticus. Ti prego, è terrificante. No, disse. Hai avuto abbastanza terrori per il momento. Questo è troppo. Atticus. Ma io non avevo paura. Egli alzò le sopracciglia e protestai. Mi è cominciata a venire soltanto quando ho cominciato a raccontare la storia del signor Tate. Gem non aveva paura. Glielo chiesi e disse di no. E poi sono le cose dei libri che fanno veramente paura. Atticus aprì la bocca per dire qualcosa ma poi la richiuse. Tolse il pollice del mezzo del libro e lo riaprì alla prima pagina. Mi avvicinai a lui appoggiando la testa alle sue ginocchia. Ham, disse. Il fantasma grigio. Il secca Tari Hawkins. Capitolo primo. Volevo costringermi a rimanere sveglia ma la pioggia cadeva così dolcemente e la camera era così calda e la sua voce era così profonda e le sue ginocchia così comode che mi addormentai. Qualche secondo dopo o così mi parve sentii la sua scarpa che mi dava dei gentili colpetti sulle costole. Mi alzò in piedi e mi portò quasi fino in camera mia. Ho sentito tutto borbottai. Non dormivo affatto. Accadde su una nave e c'è Fred dall'uncino e il mozzo di Stoner. Egli mi slacciò la tuta appoggiandomi a lui e mi tolse i calzoni. Poi mi tenne con una mano cercando il pigiama con l'altra. Già e tutti credevano che fosse il mozzo di Stoner che buttava all'aria il loro circolo versando l'inchiostro da tutte le parti. Mi guidò fino al letto. Mi ci mise a sedere e sollevandomi le gambe mi infilò sotto le coperte. Egli davano la caccia e non riuscivano mai ad acchiapparlo perché non sapevano che aspetto avesse. E Atticus quando finalmente lo videro si accorsero che non aveva fatto niente. Atticus era proprio simpatico. Sentivo le sue mani tirar su la coperta fino al mento rimboccandomela tutto attorno. Quasi tutti sono simpatici scout quando finalmente si riescono a capire. Spense la luce e tornò in camera di Jem. Tutta la notte sarebbe rimasto con lui e sarebbe stato ancora lì al risveglio di Jem. Al mattino.